Scatta l'allarme poliomelite dopo i rilevi di tracce del virus nelle fogne di New York, in Israele e nel Regno Unito. L'OMS lancia un altro allarme dopo quello per il vaiolo delle scimmie ed invita tutti coloro che non sono vaccinati o i cui figli abbiano saltato le vaccinazioni programmate ad effettuare la profilassi il primo possibile perché i vaccini contro la poliomelite si sono dimostrati molto efficaci e sicuri. Nonostante l'elevata copertura vaccinale antipolio complessiva, il poliovirus ha trovato la sua strada verso individui suscettibili nelle comunità poco vaccinate. Per quanto riguarda il Covid, per il Ministero della Salute sembra quantomeno avvicinarsi la riduzione del periodo di quarantena da 7 a 5 giorni per i soggetti positivi al Covid asintomatici. A patto che vi sia un test negativo al quinto giorno, il Consiglio Superiore di Sanità e secondo gli scienziati sarebbe anche possibile ridurre da 21 a 15 giorni il periodo massimo di isolamento in caso persista la positività al virus. Ciò sulla base della minore infettività trascorse due settimane. La riduzione dei giorni di quarantena per gli asintomatici è considerata probabile, ma non nei prossimi 7 o 10 giorni. Un tempo questo necessario a compiere una valutazione sul rischio complessivo, perché anche se le terapie intensive in questo momento non sembrano sotto pressione e il numero di contagi in calo, c'è ancora un numero di decessi non trascurabile.